si 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 mettevano la cento in due pomeriggia dicevano la cento in due pomeriggia ma ci hanno fatto tutti gli animali si così almeno quando vuoi non facciano e che vuoi bravo 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 attento con la coda che mamma mi sta accarezzando però la coda bravo 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 buoc сделать la cartina sonora la coda non è per quello il problema è che si diventa il collega che ha la moglie non mangiando glutine perché mangia insieme alle donne sviluppi anche tu la celiachia perché non hai, cioè, se metti giù il glutine non lo riconosci più la donna è fascista si, ma lui dice che ha visto questo solito grazie, grazie, grazie grazie, grazie faceva una gara grazie grazie